Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Trapina Fossombrone arrestato una donna di etnia Roma capo di una banda composta di sole donne Ambulanze, nuova riunione in prefettura stipendi ancora bloccati dipendenti e associazioni pronti allo sciopero installate nuove tribune per il pubblico nei campi da calcio a Cucurano e a Ponte Sasso Gli Sbancati 2 il film girato in diletto fanese del regista Secchiaroli sta per tornare al cinema domenica c'è stata l'anteprima con il thread e gli attori presenti trasferta vietata ai tifosi del Fano l'onorevole Ricciardi porta il caso in Parlamento Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale I carabinieri di Fossombrone hanno arrestato una donna di 29 anni a capo di una banda tutta al femminile che metteva a segno furti e rapine Fondamentale alle indagini è stata una foto una foto che è stata scattata da un cittadino E' stata una foto scattata da un cittadino forse impronese a dare la svolta alle indagini dirette dal procuratore del tribunale Irene Lillio e portate a termine dai carabinieri di Fossombrone che hanno arrestato Lidia Djurdevic 29enne pluri pregiudicata di origine rom ritenuta essere l'autrice di una serie di furti e rapine Una di queste era stata messa a segno il 18 agosto scorso a Fossombrone dove Paolo Mariani di 44 anni aveva notato una donna che si aggirava con fare sospetto di fronte alla porta d'ingresso dell'abitazione dei suoi genitori attigua la sua Quando le aveva chiesto che cosa stesse facendo è stata raggiunta da un'altra donna Le due hanno risposto di essere in quel luogo in cerca di un appartamento in affitto Insospettito dell'atteggiamento l'uomo è entrato all'interno notando che le ante dei mobili della cucina erano spalancate ed alcune porte, solitamente lasciate chiuse erano aperte E' stata la conferma ai suoi dubbi si trattava di un furto e la sconosciuta stava facendo da palo A quel punto si è subito diretto sul retro dell'immobile per cercare di raggiungerla ma proprio in quell'istante la 29enne stava per salire in un'auto un'Alfa 147 di colore grigio con altre tre complici Senza pensarci due volte Mariani ha infilato un braccio all'interno dell'abitacolo tentando di aprire la sicura ma le donne hanno iniziato a trattenerlo e a percuoterlo fino a farlo desistere poi si sono baricate dentro così lui ha pensato di prendere il telefono cellulare e di fotografare la targa quando la conducente del mezzo si accorta ha cercato di travolgerlo con la vettura una banda tutta al femminile questo non significa che non erano particolarmente agguerrite determinate infatti non hanno esitato a tentare di investire l'uomo che solo grazie alla sua scaltrezza è riuscita ad evitare l'impatto lo ha colpito al braccio sinistro riportando lesioni alla spalla all'anca e al gomito e procurandogli 15 giorni di prognosi il gesto astuto del 44enne di scattare una foto ed una precisa descrizione della malintenzionata ha permesso di risalire a Lidia il capo della banda che nella sua lunga attività illecita ha fornito una trentina di alias diversi nonostante questo è stata riconosciuta tra i cartellini foto segnaletici è stato fondamentale il riconoscimento da parte del cittadino vittima in questo caso di un furto che si è trasformato in rapina la sua capacità di poter osservare e riconoscere successivamente l'autore di questo delitto ci ha permesso ovviamente di arrivare a una misura di custodia cautelare misura che è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari Vito Savino la donna è stata poi sottoposta ai domiciliari avendo un figlio minore di 6 anni le indagini proseguono per individuare le complici questione delle ambulanze una riunione in prefettura con i dipendenti però che adesso minacciano lo sciopero Musilunghi è malcontento all'uscita dalla prefettura stamattina per il nulla di fatto dopo il vertice durato più di due ore tra le sigle sindacali i responsabili dell'Asur e gli autisti delle ambulanze che da luglio non percepiscono stipendio per procedure non rispettate e lungaggini burocratiche Le aziende non sono in grado di presentare la documentazione e quindi l'Asur non è in grado di pagare la fatturazione e i lavoratori rimangono senza stipendio noi abbiamo chiesto all'Asur il pagamento diretto delle retribuzioni per responsabilità solidale ed è per questo che ci siamo dichiarati non contenti di come è andata la trattativa perché non abbiamo avuto risposta in merito Perché le aziende non riescono a produrre la documentazione? Perché a quanto pare l'azienda capofila che avrebbe dovuto emettere la documentazione non è in grado di emettere quella documentazione perché pare che sia stata sequestrata o contenuta e quindi non riesce a comunicare all'Asur i cosiddetti fogli di viaggio che permettono un controllo per poi fare la fatturazione Tra l'incudine e il martello i lavoratori lottano ogni giorno tra l'impossibilità di incrociare le braccia e mantenere le famiglie il mutuo da pagare le bollette che scadono Una situazione questa divenuta per alcuni di loro insostenibile Siamo praticamente a luglio senza un centesimo Non abbiamo molti colleghi che non hanno nemmeno la possibilità di mettere la benzina che abita più distante per venire a lavorare al mattino Stanno creando delle situazioni molto incresciose con i debiti banca bollette non riusciamo più a pagare niente cioè è un disastro è un disastro veramente Siamo costretti addirittura a fare 12 ore al giorno Pensi te andare su il mattino alle 5 e mezza alle 6 fare il primo turno per poi finire uno e iniziare un altro pomeriggio fino alle 20 della sera senza essere retribuiti in che condizioni il cervello può essere con tutti i problemi che non riesce a pagare niente e ora di venire a vedere in che stato noi guidiamo perché dopo l'era nel disco soffriamo tutti di mal di schiena ma è ovvio con le ambulanze in mezzo che abbiamo le strade ovvie tra le buche tutto i mezzi non sono efficienti ora al danno si è aggiunta anche la beffa sul web per un post su facebook dell'ex consigliere regionale Zaffini che è rimasto indigesto agli autisti visti come ladri oggi molti ci giudicano che siamo ladri entriamo in casa per soccorrere rubiamo anche gli oggetti in ospedale siamo visti come potenziali ladri che rubiamo le lenzuola rubiamo qui rubiamo là addirittura adesso viene fuori il discorso che entriamo in casa e vogliamo difendere anche tutti i colleghi delle poters di Fano di Pesaro che assolutamente non siamo quella gente lì anzi tutto il contrario Buone notizie per chi frequenta i campi da calcio a Cucurano e a Ponte Sasso di Fano infatti sono state installate due nuove tribune per il pubblico due nuove tribune da 91 posti ciascuna sono state installate in due campi sportivi da calcio a 11 che finora ne erano sprovvisti il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione fra l'amministrazione Fanese e due società l'unione sportiva di Ponte Sasso e l'associazione sportiva dilettantistica di Cucurano come spiega l'assessore allo sport Caterina Delbianco la decisione è stata presa per consentire al pubblico di seguire le partite in tutta sicurezza perché in caso di infortuni agli spettatori la responsabilità ricaderebbe sulla presidenza al centro sociale di Ponte Sasso c'era una situazione in cui chi andava a vedere la partita del Ponte Sasso saliva in un gradone neanche di proprietà del vicinato quindi una situazione sgradevole anche per problemi di responsabilità abbiamo installato una bella tribuna e sono delle tribune come quelle del carnevale quindi per renderci conto insomma una bella struttura che va a tamponare questa situazione l'altra tribuna è stata installata al campo di Cucurano il campo da calcio a 11 dove anche lì gli spettatori che sono molto tifosi del Cucurano e siamo a livelli di 100-150 persone ogni sabato salivo nel fosso provinciale anche lì era una situazione mi piangeva il cuore vedere questa cosa e abbiamo tamponato ma l'assessorato lo sport ha già in programma ulteriori interventi negli impianti comunali abbiamo situazioni in alcune palestre dove piove dentro quindi interveremo sicuramente nelle palestre soprattutto della pallavolo e la palestra di Cucurano e poi il circuito ciclistico come più volte mi segnala la società di ciclismo Alma Juventus necessita un intervento nel bordo dell'asfalto Saranno contenti anche i fruttori della pista ciclabile Fano-Pesaro perché c'è stato un intervento di manutenzione straordinaria nel tratto della pista ciclabile Fano-Pesaro appunto il tratto fanese dove è stato liberato da arbusti canetti e erbacce che costruivano non solo la visibilità ma anche la percorribilità della pista l'operazione di pulizia è costata al Comune circa 15 mila euro nell'importo stanziato sono stati compresi però anche altri interventi realizzati in varie zone del territorio comunale Valerio Massimo Manfredi noto al grande pubblico come autore di romanzi storici ha incontrato gli studenti delle scuole superiori di Fano Fano ha una storia radicata nel passato romano ci sono testimonianze importanti Vitruvio era una persona che sicuramente ha segnato il futuro delle generazioni che sono succedute a lui indubbiamente questa è una zona molto romanizzata come tutta l'Italia e Vitruvio è un grande architetto non c'è dubbio insomma ma d'altra parte come dicevo poc'anzi per fortuna i pilastri della civiltà antica si sono salvati cioè quando abbiamo Vitruvio nell'architettura Tacito nella storia quando abbiamo Plauto nel teatro o Terenzio quando abbiamo Plinio nell'enciclopedia quando abbiamo Virgilio Catullo e Ovidio nella poesia eccetera eccetera insomma sostanzialmente possiamo dire che la gran parte delle nostre radici si è salvata e sono ancora vive il coro della cappella musicale del Duomo ospiterà il prossimo fine settimana quello del cattedrale della città gemellata tedesca di Rastatt ancora un fine settimana dedicato ai 30 anni del gemellaggio con la città di Rastatt quello che è stato organizzato dal coro cappella musicale del Duomo di Fano che sempre quest'anno a Natale festeggerà il suo decennale con il coro della cattedrale della città tedesca ci sembrava una bella opportunità sia per noi come cappella musicale sia per l'amministrazione comunale di chiudere diciamo così l'anno celebrativo in maniera bella piacevole ricca dal punto di vista culturale il programma pensato per gli ospiti che arriveranno giovedì alle 17.30 prevede diverse iniziative fino alla giornata di sabato venerdì mattina avranno la possibilità di visitare le cantine terra cruda di Fraterosa mentre nel pomeriggio potranno ammirare le bellezze della città come la fanno romana e gli scavi archeologici grazie ad una collaborazione con l'archeoclub la giornata si concluderà nella cattedrale di Cagli dove si esibiranno un concerto con il coro locale quello fanese l'estate novembre invece dopo la visita alle chiese della città della fortuna a mezzogiorno verranno accolti in municipio dall'amministrazione comunale agli ore 18 poi il vescovo Armando Trasarti celebrerà una santa messa in Duomo che sarà alietata dal coro fanese con 25 componenti più un gruppo formato dai giovani detto dei pueri cantores con quasi 30 ragazzi e quello di Rastat con 28 coristi ben tre cori quindi da noi come cappella musicale del Duomo di Fano dalla nostra formazione più giovane dei pueri cantores e naturalmente dal coro ospite il coro di Rastat e proseguiremo con un concerto finale dove appunto il coro di Rastat si potrà esibire insomma e alietarci ecco con la loro splendida musica insomma in questi giorni a venire Fano insomma sarà piena di cantori ecco un'esperienza unica e c'è grande attesa invece per l'arrivo sugli schermi dei cinema locali del film Gli Sbancati 2 domenica c'è stata un'anteprima in nome del popolo italiano il tribunale di Pesaro sezione di staccata di Fano tenuto conto delle conclusioni del pubblico ministero e dei legali di parte eccetera 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 successo dello scorso anno ed entrare di diritto tra le perle cinematografiche mai realizzate nella provincia di Pesaro e Urbino il regista Henry Secchiaroli per il secondo capitolo del film dedicato al vernacolo ha realizzato una commedia d'azione sempre incentrata sulle vicende di una banda di improbabili ladri che questa volta sono usciti dai confini di Fano ed hanno fatto tappa a Pesaro, Urbino Mondavio Cartoceto e Fossombrone un film molto carino da andare sicuramente a vedere è un film allegro vi teremo compagnia ridendo grazie per la linea signor Tonti vuole rilasciare una dichiarazione? come no voleva di che gli poi venga prenda poi altri dopo te fuggi dove parche tanti li vedrò ancora top secret la sceneggiatura ma Secchiaroli si lascia sfuggire qualche anticipazione il lisippo avrà un ruolo fondamentale nella storia perché così come è successo con la prima pellicola ha voluto fare un omaggio alla storia della città di Fano intanto le foto del backstage sono state esposte domenica scorsa al caffè centrale in occasione del cambio di gestione del locale all'inaugurazione non potevano mancare gli attori protagonisti del film io ringrazio molto Henry Henry Secchiaroli perché anche quest'anno mi ha fatto provare un'esperienza veramente magnifica tre ore in una vasca da bagno praticamente e dalle nove alle tre di notte fare una ripresa proprio indescrivibile Florin ormai è una leggenda qui la gente ti incontra prestata chiedono le autografie un casino infatti mi tocca Fugio continuamente che la gente mi segue dietro non si agamba più la notorietà è stupenda tanto è vero che passeggiando per il corso passava una scolaresca un bambino gli ha detto ha detto ah signor maestro è quello che ha fatto il film non cominciamo a dire le stupidaggini ritorno infine come gli altri chi si fosse perso il primo capitolo del film avrà l'occasione di vederlo andando al cinema Politeama martedì 10 novembre alle ore 21 e 15 per una proiezione eccezionale al costo di 5 euro gli sbancati due al ritorno invece arriverà al cinema il 6 dicembre alle ore 21 e 15 quando è in programma l'anteprima per autorità e giornalisti dal 10 dicembre porte aperte al pubblico sia al Politeama che al Masetti di Fano ci siamo divertiti da matti e quindi vi consiglio di venire a vedere perché quest'anno vi faccio un pisciato da ridere e ovviamente non farà sentire la sua mancanza il vero tormentone del film un quasi stupida gratis e mancherà mai Gli sbancati due un ritorno esplosivo a Natale Bene e adesso invece parliamo di calcio di trasferte di calcio perché Lara Ricciatti ha depositato questa mattina una interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sul divieto di trasferta ordinato dal per due turni consecutivi ai tifosi del club fanese tra l'altro la Ricciatti dice più che isolare i facinorosi il divieto di trasferta per i tifosi dell'Alma Juventus di Fano ha danneggiato la parte sana e maggioritaria del pubblico costituita anche da famiglie con figli al seguito privata del piacere di seguire dunque la propria squadra la Ricciatti ha detto anche che ha segnalato questa vicenda al ministro Alfano chiedendo anche se non ritengo opportuno adottare linee guida che consentano di ricorrere al provvedimento del divieto di trasferta solo quale misura di ultima istanza ed in presenza di situazioni di criticità elevata motivata dai responsabili dell'ordine pubblico e se guardiamo adesso invece il nostro sito la redazione ha appena pubblicato la notizia di un sopralluogo della commissione di vigilanza allo stadio Mancini di Fano dove era presente il sindaco Massimo Serri il presidente della società sportiva Gabellini tutti d'accordo ovviamente per individuare soluzioni migliorative per garantire una maggiore sicurezza in occasione degli incontri di calcio e prima di salutarci vi ricordo che domani mercoledì c'è l'appuntamento torna l'appuntamento con Primo Cittadino sarà ospite nei nostri studi il sindaco di Saltara Claudio Ucioni come sempre vedete i numeri di telefono i quali potete inviare un messaggio oppure chiamare in diretta telefono è tutto Occhio alla notizia finisce qui grazie per averci seguito a domani per averci seguito grazie a tutti